Il torneo sta procedendo bene, peccato. Ci sono usciti due giocatori abruzzesi, la testa di serie numero due Andrea Picchione e Giorgio Ricca e quindi perdiamo un po' di territorio, come si suol dire, però un bellissimo torneo, bella vittoria della testa di serie numero uno l'italo-argentino Facundo Guarez. Oggi ho giocato molto bene, è stato un po' lento, però ho giocato bene e ora ho giocato una finale in un Open per Soldi, quindi contento, disfrutando la partita.